Nella squadra di Fabri, Iannice e Liguori, l'assenza del secondo ha reso fragile lo schieramento a centrocampo. Questa è una rovesciata di pace a Bulgarelli, il cui tiro è parato da Battara. C'è un altro intervento di Battara su un traversone insidioso di scala. Ecco il gol della Sampdoria, testa di Sabadini a Fotia, il cui tiro non perdona. La Sampdoria è condotta da Lodetti, che stringe, tira, respinge Vavassori. Poi l'azione del gol di Cristin annullato per un fuorigioco rilevato dal guardialine. Ecco il tiro di Cristin, la palla è in fondo al sacco, ma l'arbitro annulerà. Ecco il pareggio del Bologna, è Fedele che passa a Vastola, si aggiusta la palla sul destro e batte il portiere Sampdoriano. Fedele si è infortunato nell'azione del pareggio ed esce dal campo. Sampdoria 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 Sampdoria